Buonasera, ringrazio Susanna Di Pietra che questa sera è ancora qui con noi e il Professor Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. I dati di oggi ci segnalano un calo delle terapie intensive e dei ricoverati con sintomi. I casi totali sono infatti 199.414 con un incremento rispetto a ieri di 1.739 persone, mentre i dimessi guariti sono 1.696 in più rispetto a ieri per un totale di 66.624. Prosegue inoltre l'alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi infatti il totale delle persone attualmente positive è di 105.813 con un calo rispetto a ieri di 290 pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Di questi 1.956 sono in terapia intensiva, 53 in meno rispetto a ieri, 20.353 sono i ricoverati con sintomi con una diminuzione di 1.019 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi per un totale di 83.504 pari al 79% del totale di positivi. Il dato dei deceduti è di 333 oggi. Passando al tema delle risorse raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile sul conto corrente delle donazioni vi segnalo che ad oggi abbiamo raccolto 141.457.494 euro. Sul conto corrente delle donazioni è una cifra importante e di questo voglio ringraziare gli italiani per la loro generosità. Su questo conto corrente abbiamo già speso oltre 79 milioni di euro, 79.579.372 euro, il 56% delle donazioni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di ventilatori. E voglio anche ricordare che noi abbiamo attivo un altro conto corrente grazie al quale è stato istituito un fondo per i familiari delle vittime del personale sanitario che è deceduto durante l'emergenza. Questo conto corrente ha raggiunto la cifra di 5.221.089,19 fino a poco fa e speriamo che possa essere incrementato e alimentato. Per quanto riguarda le forze in campo segnaliamo sempre il numero importante dei nostri volontari, 15.878 volontari e sia delle strutture territoriali che delle associazioni di protezione civile di volontariato nazionali. Si vanno ad aggiungere al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, al personale sanitario che è impegnato per la gestione dell'emergenza. Le tende complessivamente installate per il pretriage nei nostri ospedali e negli istituti penitenziari sono arrivate a 929. Voglio anche ricordare, era la notizia con la quale ci eravamo lasciati giovedì scorso, l'attivazione del numero verde 800 833 833 del Ministero della Salute per l'Assistenza Psicologica, che vede impegnato oltre 500 volontari di quattro associazioni di volontariato di protezione civile, di psicologi dell'emergenza, che voglio ringraziare anche per questa straordinaria attività, che vanno a realizzare insieme a altri mille professionisti messi in campo dalle società di psicologia e dal Ministero della Salute e che garantiranno un servizio dalle 8 alle 24. Voglio anche ricordare che in questa settimana sono proseguiti gli aiuti internazionali che la protezione civile, il nostro Paese, ha ricevuto a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile, che ci hanno portato ad avere sul nostro territorio soprattutto dispositivi di protezione individuali, disinfettanti e altri materiali sanitari. Voglio ricordare le donazioni di Taiwan, dell'Olanda, della Serbia, della Romania e della Lituania, che ringraziamo per il supporto dato al nostro Paese a questa emergenza. Io mi fermo qui dalla parola al Professore Brusaferro. Grazie. Buona serata a tutti. Due commenti sostanzialmente di conferma e a complemento di quanto ci siamo detti anche nei giorni scorsi. Il trend, al di là delle possibili flessioni legate al fine settimana, è comunque un trend di progressivo decremento, fortunatamente, dei morti e anche dei casi di infezione. Ripeto, al di là, soprattutto nel caso di questi ultimi, legati alla possibile eventuale numerosità inferiore di tamponi, magari nel fine settimana. Il trend, però, generale, va verso una riduzione e, come abbiamo visto anche venerdì scorso, anche i relativi valori di RRT o R con zero, che vogliate utilizzare, mostrano sostanzialmente come siamo verso un decremento. Questo vuol dire, però, anche che comunque c'è una circolazione del virus nel nostro territorio, perché comunque il numero di casi è presente, mentre il numero dei morti, come ci siamo sempre detti, è un trascinamento, ovviamente, di infezioni che sono avvenute alcune settimane fa. Questo elemento ci dà, ovviamente, lo spunto per valutare il successo delle misure di contenimento fino ad ora adottate. Ci dà anche lo spunto, però, per riflettere sul fatto che, man mano che ci avvieremo nelle prossime fa, nei prossimi giorni, a delle caute aperture, dovremo monitorizzare con grande attenzione il numero di casi e tutti gli indicatori che vengono utilizzati e che anche oggi il dottor Borrelli ha riportato, per esempio, sull'utilizzo delle terapie intensive, che sono uno degli indicatori che possono essere utilizzati e che vengono utilizzati per valutare l'efficacia delle misure di contenimento da un lato, ma anche la capacità, nelle fasi di riapertura, di mantenere controllata la diffusione dell'infezione. Io mi fermerei qui. Grazie. Allora diamo spazio alle vostre domande. Buonasera. Gianluca Semprini, Rai News. Una domanda per il professore Brusaferro. Di servizio, molto semplice, sulla famosa mascherina da 0,50 e di cui ha parlato ieri il Premier Conte. Tornando a fare una vita normale, quindi si esce, si prende l'autobus, si va al lavoro, si incontra un congiunto, me ne serve una al giorno di mascherina da 0,50? Mi serve per non contagiare o mi serve anche per non essere contagiato? E come in qualche maniera valuto anche l'affidabilità di questa mascherina, come si aggirano tante leggende vere o presunte sul fatto che se accendo un accendino e soffio l'accendino si debba spegnere o meno? Grazie. Grazie a lei per la domanda. Questo credo sarà una delle tematiche che ci accompagneranno nei prossimi giorni per una corretta comprensione nell'uso delle mascherine. Allora, ci siamo detti più volte, mi fermo solo alle mascherine perché poi ci sono i cosiddetti facciali filtranti, le famose FFP2, FFP3, che però riguardano personale sanitario. Quindi non parliamo di queste mascherine. Quando parliamo, beh 0,50 non è soltanto un 0,50 perché c'è un accontentamento del prezzo, ma le mascherine si dividono secondo i nostri decreti in due categorie, quelle cosiddette articolo 15, che sono le mascherine tipo 2 e 2R, le cosiddette mascherine chirurgiche. Quelle sono mascherine che vengono raccomandate per uso sanitario, ovvero sia per personale sanitario. Poi ci sono le mascherine tipo 1, che sono dispositivi medici sempre previsti da una normativa europea, dalla normativa che dice sostanzialmente quali sono delle caratteristiche specifiche che vengono usate e raccomandate per la popolazione, ma per esempio per pazienti, per accompagnatori in determinati contesti. Poi ci sono le mascherine, e quindi sono ad uso di, chiamiamo tra virgolette, professionale o comunque in determinate indicazioni. Poi ci sono le cosiddette mascherine non mediche, che vengono invece raccomandate per la popolazione aperta. Queste mascherine hanno una prima funzionalità importante, che è quella di ridurre o di limitare l'emissione di droplet da parte di chi le porta. Questa è la principale funzione quindi delle mascherine cosiddette non mediche, diciamo articolo 16 rispetto ai decreti, sono mascherine che sono delle barriere, ovvero sia degli strumenti che fanno sì che mentre noi parliamo ci muoviamo in un determinato contesto, poi specifichiamo quale, si riduca o si elimini la possibilità di disperdere droplet. Quindi in realtà proteggono gli altri soprattutto. Quindi questo rispetto alla nostro potenziale essere positiva, al nostro potenziale disperdere droplet nell'ambiente. Questo è il primo elemento importante che dobbiamo avere presente. Il secondo elemento importante focalizzandoci sulle mascherine cosiddette non mediche, quindi per popolazione diciamo, sono quali sono gli ambienti in cui è opportuno usare queste mascherine. E gli ambienti sono fondamentalmente ambienti che noi chiamiamo confinati, ovvero sia luoghi chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale. Perché ci muoviamo, perché ci incrociamo, per dire i supermercati sono luoghi dove nel muoverci possiamo incrociare delle persone anche se non in maniera stabile. Quindi lì è opportuno avere la mascherina così come è opportuno averla nei mezzi di trasporto. Sono ambienti confinati dove mantenere il distanziamento sociale non è facile o possono esserci delle condizioni in cui non riusciamo a mantenerlo. E questo vale anche negli ambienti aperti. Ancora una volta, se siamo da soli in mezzo a un parco è chiaro che questo non è un problema. Se invece ci aspettiamo alla fermata dell'autobus e per quanto ci distanziamo anche all'aperto può essere per esempio utile mantenere questa mascherina. Cioè tutte le occasioni in cui non riusciamo a mantenere con certezza il distanziamento che ci siamo dedicati. Quindi la finalità di queste mascherine è questa. Ovvero sia un sistema ulteriore di barriera per evitare l'emissione di droplet. Dobbiamo però anche specificare un elemento importante. La mascherina non deve dare o l'uso di questa mascherina non deve dare false sicurezze. Ovvero sia la mascherina è un elemento aggiuntivo però il lavaggio delle mani, l'igiene personale, il distanziamento sociale sono le misure più importanti che dobbiamo utilizzare. Se aggiungiamo una mascherina possiamo ridurre ulteriormente la probabilità di diffusione. Una domanda per il professor Brusaferro. Proprio oggi lei ha parlato di questo criterio try and learn. Cioè capire meglio di che cosa si tratta perché sono state date anche delle date ipotetiche oltre il 4 maggio. Ma che significa? Si procede a passi e poi eventualmente si richiude? Try and learn, se ce lo spiega. Grazie. Va bene. Chiedo scusa per l'uso di questi termini inglesi che fanno parte un po' di una letteratura scientifica o manageriale. La logica che c'è dietro questa espressione è una logica che si applica in quelle condizioni o in quelle situazioni come quella in cui noi ci troviamo, in cui noi abbiamo delle conoscenze di base, ma in fase applicativa dobbiamo imparare dall'esperienza. Allora vuol dire che noi sostanzialmente dobbiamo utilizzare tutti i modelli predittivi per poter prevedere che impatto possa avere una determinata misura. dobbiamo implementarla con tutte le cautele, con tutte le raccomandazioni legate a questa misura, dobbiamo misurare che cosa avviene e apprendere se quello che abbiamo messo in atto effettivamente ottiene i risultati che noi ci aspettiamo. Questo è in qualche modo la logica, io identifico una misura, la simulo, poi la realizzo e nel realizzarla misuro l'effetto che questa misura poi nel mondo reale mi comporta. Questa è in qualche modo la spiegazione se vuole molto semplificata dal punto di vista dell'espressione try and learn. Cioè implementa o adotta un modello e impara in base a quello che il modello nella mondo reale comporta. L'altra domanda che però lei mi pare di aver capito sottintendeva questo suo chiarimento è la prospettiva. E' chiaro che la prospettiva è quella di passo dopo passo raggiungere il maggior numero di aperture possibili. Questo è un po' l'obiettivo che ha di tutti noi, avendo chiaro come spesso ci siamo detti che fino a quando circola il virus o fino a quando ci troviamo in fase epidemica, non dimentichiamo oggi siamo ancora in fase epidemica anche se con numeri fortunatamente molto ridotti. Se questo è il tema dobbiamo evidentemente immaginare una prospettiva dove progressivamente adottiamo delle misure che ci consentono di recuperare quanto più possibile i livelli di tra virgolette consentitemi normalità e che però comunque richiedono il rispetto di alcune regole che ci siamo detti e quindi tutte le misure di distanziamento, di igiene, anche l'uso come dicevamo prima di sistemi di protezione delle vie respiratorie, chiamiamole mascherine per la comunità, possono essere misure che ci aiutano a recuperare una dimensione di normalità, sapendo però che dobbiamo sempre aver presente l'andamento dei casi e sappiamo anche che questo andamento è diverso nelle diverse zone del Paese e qui dovremo avere sempre più una capacità di intervento in maniera precisa in funzione della evoluzione dell'epidemia. Quindi la logica è proviamo delle misure, misuriamo l'effetto che ottengono, se come auspichiamo ottengono degli effetti sostenibili rispetto al nostro servizio sanitario, rispetto alla circolazione del virus, procediamo con ulteriori misure, l'obiettivo è arrivare in un tempo, in una prospettiva ragionevole, non infinita, verso ulteriori misure che ci consentano di recuperare tutti i gradi di libertà che riusciamo a recuperare. Buongiorno, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. L'Istituto Superiore di Sanità ogni settimana nel suo bollettino ripete, rimarca, che c'è una forte differenza sulla diffusione del contagio fra le regioni. Se non sbaglio oggi la somma dei nuovi casi di 17 regioni è inferiore a quelli della sola Lombardia. In questo contesto e con tutte le raccomandazioni che l'Istituto fa su questo tema, come è immaginabile avere delle misure di allentamento, dell'allentamento delle misure o comunque delle riaperture generalizzate in tutta Italia quando oggettivamente la diffusione del contagio è differenziata fra regioni. Su questo il Comitato Tecnico Scientifico che indicazione è andato? Anche perché con i report che voi settimanalmente fate rimarcate proprio che non si può applicare lo stesso concetto a tutta Italia. Grazie. Credo ci siamo in parte, mi riaggancia quando ci siamo detti, ma in sintesi io credo che, no io credo, abbiamo le evidenze che le misure che sono state adottate a livello Paese sono quelle che ci hanno consentito di effettivamente ottenere i risultati che oggi stiamo vedendo, ovvero sia una drastica o continua riduzione della circolazione del virus, differenziato ovviamente perché nelle zone dove c'era elevata circolazione sono in decremento, nelle zone dove avevamo degli elementi delle diffusioni sporadiche o comunque a bassa circolazione, oggi hanno un numero di casi piuttosto limitato, vedremo però guardiamo i trend perché magari domani potremo avere qualche caso in più, sappiamo che comunque continua a circolare in queste zone e ha consentito ovviamente di mantenere questo livello di circolazione, ma proprio l'aver fatto delle misure nazionali ha consentito di evitare mobilità per esempio tra diverse zone, quindi mantenendo quelle zone, preservando alcune zone rispetto alla circolazione e anche facendo in modo che le zone a più alta circolazione rimanessero contenute al loro interno e tra di loro, anche perché non dimentichiamo che rappresentare il Paese in maniera univoca è difficile, ma anche le regioni di grandi regioni hanno delle differenze importanti tra loro da provincia a provincia. La prospettiva in cui ci muoviamo è come Comitato Tecnico Scientifico di dare delle misure generalizzate ovviamente sul sistema, ma poi anche di avere un sistema di monitoraggio puntuale a livello regionale locale coordinato. Quindi questo è un sistema di monitoraggio e poi può consentire di fare interventi specifici. Venerdì scorso ci siamo parlati, abbiamo detto che c'erano oltre un centinaia di zone rosse nelle varie regioni, questo vuol dire che in quelle regioni specifiche, in quelle aree specifiche, si può intervenire puntualmente laddove si crea un focolaio per isolarlo. Proprio questa capacità che deve essere però determinata a livello regionale locale diventa decisiva in questa fase, in questa fase, chiamiamola 2 o 1 o 2, come vogliamo chiamarla, nella prossima fase che stiamo affrontando. E quindi quello che lei dice è giusto avere delle misure generalizzate, però è giusto anche, è necessario avere la capacità di intervenire in maniera più puntuale nel contesto epidemiologico locale, modulando eventuali provvedimenti che possono essere anche molto localizzati, pensiamo alle zone rosse, oppure se ci sono episodi di casi non riconduti, le cui catene epidemiologiche non sono ricostruibili ma sono diffusi, evidentemente il tipo di attenzione sarà diverso. Quindi il passaggio successivo sarà proprio questo monitoraggio stretto delle diverse realtà locali, regionali e locali, così da poter adottare le misure più appropriate in quel contesto specifico. Buonasera, Giorgia Sodaro a DN Cronos. Io volevo fare una domanda sui tamponi. In questi ultimi giorni abbiamo visto il dato insomma un po' in calo e noi continuiamo ad avere segnalazioni di persone che, anche avendo avuto contatti compositivi e magari sintomatiche, pauci sintomatiche, però non vengono sottoposte a tampone anche per per un lungo periodo. Un paio di settimane fa il commissario Alcuri aveva annunciato di aver acquistato 2 milioni e mezzo di tamponi quindi credo che il problema insomma i tamponi ci siano. Volevo capire se voi avete capito dove si inceppa questo meccanismo. Come mai ancora c'è questa difficoltà a fare i tamponi insomma a persone che sarebbero in diritto di farli? Io le posso dare una risposta dal punto di vista dell'indicazione a fare i tamponi poi casomai il dottor Borrelli potrà entrare sulla parte più logistica. Uno degli indicatori che noi che stiamo condividendo con tutto il sistema, con le regioni, è proprio quello di avere una crescente tempestività nell'eseguire i tamponi anche al di fuori del contesto ospedaliero o anche laddove ci siano persone pauci sintomatiche. Quindi poter, grazie al fatto che comunque mediamente al di là di queste giornate, ma insomma mediamente oggi siamo in una fase in cui si erogano oltre 60 mila tamponi al giorno tra virgolette, concentrare l'utilizzo di questi tamponi, favorire o spingere l'utilizzo di questi tamponi facendo in modo che la distanza tra l'inizio sintomi e quando viene i tamponati si riduca progressivamente. Questo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere come Paese che oggi può avere differenze nei diversi livelli regionali o anche intraregionali e l'obiettivo è proprio fare in modo che queste differenze si riducano progressivamente andando verso questo scenario. Sull'aspetto logistico posso? Aggiungo e confermando quello che ha detto il Commissario Arcuri che sono già diversi giorni che noi non abbiamo segnalazioni nell'ambito della riunione mattutina del Comitato Operativo di esigenze di carenze di tamponi. Quindi dal punto di vista logistico e della disponibilità confermo la disponibilità dei tamponi. Per questo chiedevo perché abbiamo capito che al momento ci sono però evidentemente c'è ancora qualcosa che non funziona nel modo corretto perché poi continuiamo ad avere queste segnalazioni di persone che non riescono a farlo. I medici di base dicono che non è possibile farli quindi attendono per per lungo tempo e parlo di persone comunque che sono persone che hanno avuto contatto con Positivial. Anche in vista della fase 2 dove dovrà essere immagino insomma importante fare più tamponi. Se vuole posso aggiungere che in fase di elaborazione un documento che credo verrà reso pubblico nelle prossime ore e verrà prima condiviso con tutti gli attori e poi reso pubblico che va nell'indicazione che le ho detto cioè questo è uno degli elementi della fase, di questa fase proprio di spingere molto l'organizzazione che probabilmente ha delle disomogeneità nel territorio per fare in modo che questa disomogeneità si riduca e si raggiunga l'obiettivo che lei ha sottolineato. Buonasera Jacopo Scaramuzzi a Scanius. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri nel suo discorso in un passaggio ha detto che se la scuola tornasse ad aprirsi adesso nel giro di una o due settimane ci sarebbe un'impennata del contagio in tutta la nazione. In base a studi scientifici, il Presidente ha citato degli studi scientifici, volevo sapere qual è il punto della scienza su questo tema e che cosa si sta facendo per prevenire quando a settembre si rientrerà a scuola. Sappiamo tutti, l'ha detto anche oggi il Presidente della Repubblica Mattarella che è una ferita per tutti, per i bambini che non vanno a scuola, per i genitori che tornano al lavoro, per i nonni che sono i primi a rischiare di essere contagiati. Insomma, qual è il punto della scienza e che cosa si sta facendo per evitare a settembre una impennata come l'ha definita il Presidente del Consiglio? Grazie. Allora, parliamo sempre di meccanismi e di modelli che sono stati sviluppati nel nostro Paese ma sono stati sviluppati anche da colleghi inglesi dell'Imperial College o da altri. La scuola per vari motivi, anche perché ovviamente ha momenti di aggregazione stretti tra ragazzi giovani, ma non dimentichiamo che la scuola ha anche tutto un suo insieme di correlati che sono legati a chi porta i ragazzini, ai mezzi di trasporto, a tutta una serie che non sono unicamente legate al momento scolastico in sé. Nelle varie modellistiche mostra come in realtà possa diventare uno di quei luoghi che favorisce la diffusione dell'infezione e questo è il dato che la modellistica oggi ci fa confermata da vari modelli sviluppati indipendentemente da gruppi che si occupano di questi aspetti. La prospettiva in questo momento è quella certamente per noi di guardare cosa sta avvenendo e poi rispetto al prossimo anno scolastico provare nel frattempo da una parte vedere l'andamento dell'epidemia che ci auguriamo possa essere mantenuta sotto soglia e controllata a partire dalle prossime settimane, quindi riguadagnando quei gradi di libertà che tutti auspichiamo di poter riguadagnare e nel frattempo di immaginare modelli organizzativi o attività, un'attività scolastica modellata in maniera tale da evitare la possibilità che quella che quel tipo di attività possa generare di nuovo favorire la ricrescita dell'epidemia e su questo c'è proprio il margine che abbiamo nei prossimi settimane di studio di analisi di anche di modelli o di possibilità di organizzazione dell'attività scolastica anche tenendo conto delle diverse fasce di età. Però io questo lo lascerei agli studi, so che il Ministero dell'Istruzione ha attivato un gruppo di esperti che sta lavorando su questi scenari e quindi io credo che da un lato l'andamento dell'epidemia dall'altro questi gruppi di esperti che stanno immaginando soluzioni organizzative possano poi permetterci di fare delle previsioni che in questo momento lascerei a tra qualche tempo sostanzialmente. Nel senso che l'idea è ci muoviamo verso, poi dobbiamo immaginare e costruire dei modelli per potercelo consentire. Buonasera Filomena Rorro, chi l'ha visto Rai 3? Due domande, una per lei Professor Brusaferro. Intanto se ci può chiarire quando uscirà il documento, qui faceva riferimento un attimo fa sui tamponi e sempre sui tamponi, visto che ieri sera il Premier Conte ci ha illustrato le nuove misure della fase 2 diciamo così e soprattutto possiamo andare a far visita ai nostri congiunti, ai nostri parenti. Però mi chiedo, le persone che hanno sempre lavorato in questo periodo, facciamo un esempio visto che siamo qui, come noi ecco e decidono di andare a trovare genitori, parenti, affetti soprattutto parlando di persone anziane, come possono fare, come possiamo fare ad essere certi di non essere entrati in contatto con il virus e quindi in maniera anche asintomatica per non rischiare di contagiarli? Quindi se è previsto un tampone cioè io da privata posso chiedere di fare un tampone prima di andare a trovare una persona cara che è anche anziana? E poi al professor, al dottor Borrelli, così le esaurisco tutte e due, dottor Borrelli le faccio, le rifaccio una domanda che le ho fatto due settimane fa e credo lei la ricorderà bene, se è possibile avere i documenti verbali del comitato scientifico, in particolare anche quello del 3 marzo, dove veniva prevista la chiusura di Alzano, Lombardo e Nembro. Grazie. Parto io dall'ultima domanda. Come le avevo detto stavamo facendo degli approfondimenti giuridici che abbiamo terminato un paio di giorni fa. Questi atti, quelli del comitato ecchio scientifico, sono degli atti presupposti di provvedimenti normativi e di provvedimenti amministrative di carattere generale, come i dpcm, che contengono, come abbiamo detto, delle informazioni che sono informazioni sensibili, delicate, per cui a livello normativo questi atti li renderemo, così come prevede la norma, disponibili al termine dello stato d'emergenza o più in là. in questo momento riteniamo non opportuno renderli noti. Rispondo alla sua domanda, che era la prima domanda. Allora il documento sarà una circolare ministeriale che uscirà nei prossimi giorni e quindi avrà tutte le indicazioni, quindi troverà tutto scritto sostanzialmente, tutto questo è in progress, si sta elaborando. Credo che ieri sera lo stesso Presidente del Consiglio abbia annunciato come accanto a delle misure di, chiamiamole, apertura, tra virgolette, sono accompagnate dalle misure di monitoraggio dell'andamento. Ecco, la circolare ministeriale che uscirà nei prossimi giorni, comunque sicuramente entro giovedì, se la circolare avrà tutte le specifiche, anche gli indicatori a cui lei si riferisce. Non sarà ovviamente legata solo ai tamponi, i tamponi sono uno degli indicatori, non è soltanto quello, ci sono il numero di nuovi casi, la presenza di focolai, ci sono tutta una serie di indicatori che devono aiutarci tutti, a partire dalle autorità sanitarie competenti, a capire se stiamo nel giusto sentiero, sostanzialmente, per evitare la ricrescita delle cose. Per quanto riguarda le visite alle persone, è chiaro che ci siamo sempre detti che le persone anziane polipatologiche sono quelle più fragili, quindi in realtà bisogna stare molto cauti nel momento in cui non si ha certezza di essere nel fare queste visite, tra virgolette. Credo che stante oggi la situazione, faccio fatica a immaginare che uno faccia un tampone prima di andare a trovare, perché c'è anche un tempo diagnostico, lei fa il tampone, poi la risposta ce l'ha entro un certo arco di tempo, che comunque non è mezz'ora, perché i tamponi comunque richiedono dei tempi di processazione abbastanza lunghi, quindi in realtà questo mi pare, non credo sia la soluzione più immediata, dire faccio il tampone e poi vado a trovare una persona anziana. Credo che sia un problema di grande cautela, per cui io raccomanderei fortemente, se una è una persona per motivi professionali che è esposta alla possibilità di avere contatti stretti con altre persone, tanto più se poi è sintomatico, credo debba farlo con grande cautela e comunque se lo fa usando i mezzi di barriera, mantenendo distanziamento sociale in maniera rigorosa, avendo una rigorosa igiene delle mani, quindi con grandissima cautela. Questo certamente posso, penso, mi sento anzi, in dovere di raccomandarlo fortemente. Buonasera, Angelo Zaccone Teodosi per Il Riformista. Sul tema sul quale io mi permetto di battere e ribattere abitualmente di trasparenza e comunicazione, io credo che se la decisione è quella di rendere questi benedetti verbali del Comitato Tecnico Scientifico prima o poi disponibili, è banale osservare prima è, meglio sarà, per consentire a tutta la cittadinanza, agli operatori, di esercitare un diritto di, diciamo, osservazione critica. La stessa un'organizzazione indipendente come Open Police, avrete veramente letto, oggi ha presentato un'analisi, un dossier sui processi di trasparenza nei vari organismi che stanno, diciamo, codicidendo la gestione dell'emergenza e lamenta un'assoluta assenza di, diciamo, trasparenza e un'assoluta opacità. Ma questo è un invito. Il secondo invito è connesso a questo, la domanda che già posi al Capodipartimento, se il Presidente della Task Force Colao avrà la grazia di manifestarci un suo parere diretto e in dialettica con gli operatori della comunicazione. Ed è connesso anche a questo, giunge voce che forse qualcuno vorrebbe sospendere dalla settimana prossima questi incontri, prima quotidiani, adesso bisettimanali, con il Dipartimento della Protezione Civile. Io credo che sia assolutamente saggio mantenere questo tipo di incontri, perché sono l'unica occasione di rapporto dialettico tra i giornalisti e le istituzioni in maniera abbastanza puntuale. Accantone, mi scuso per la lunga premessa, la domanda è abbastanza semplice. C'è chi osserva che ci sia un dominio medico-sanitario, poi economico, nella gestione dell'emergenza. Oggi è stato annunciato il numero verde che il Capodipartimento ci aveva appunto, diciamo, preannunciato qualche giorno fa. È sicuramente una bella iniziativa ma viene attivato a fine aprile e quindi si è consentito osservare forse un po' tardivamente. La premessa alla domanda è questa. Alcuni osservano che si registra una sorta di deficit di sensibilità appunto sulle conseguenze psicosociali, non ovviamente della pandemia, ma di provvedimenti normativi così repressivi e draconiani. Alla domanda è, non sarà forse questo dovuto al fatto che nel Comitato Tecnico Scientifico, ormai formato da 20 membri, come è stato il resto di pubblico dominio il 23 aprile con la pubblicazione del decreto del Dottor Borrelli in Gazzetta Ufficiale, questi 20 membri sono tutti maschi? Qualcuno potrebbe ipotizzare che c'è una sorta di deficit di sensibilità culturale rispetto alle categorie deboli e quindi appunto ai bambini, ai disabili e categorie simili e che quindi nel processo decisionale l'assenza totale di una componente femminile abbia in qualche modo influenzato anche le valutazioni a catena. E poi una domanda invece per il professore. Lei ha citato studi scientifici, io non dubito che esistano, però mi sembra che in altri paesi europei, nella gran parte degli altri paesi europei, rispetto alla decisione di mantenere le scuole chiuse, la decisione italiana sia in assoluta controcorrente. E allora vorrei capire sulla base di quali presupposti scientifici, come ha già domandato un collega. Grazie. Allora parto io, professore, partendo e ribadendo il concetto che gli atti del Comitato Tecnico Scientifico saranno resi noti non appena le ragioni di opportunità lo renderanno possibile. Per quanto riguarda il Presidente Colau, io le posso dire che le attività della Task Force vanno avanti. Il Presidente è responsabile di questa struttura. Ovviamente lui deciderà se e quando parlare. Credo che però il lavoro del Comitato sia stato un lavoro importante e sia stato fatto e portato all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri che l'aveva nominato. Quindi si può anche lavorare e portare il risultato del proprio lavoro all'autorità politica. Per cui io rimando a lui ogni decisione su quando e come parlare. Per quanto riguarda il discorso del Comitato Tecnico Scientifico, purtroppo, no, dico purtroppo, i rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico sono individuati nella carica che ricoprono, come anche il Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi qualora il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità fosse stata una donna oppure il Capo della Protezione Civile una donna, ci saremmo trovati nel Comitato la componente femminile adeguatamente rappresentata. Credo che il tema però della fragilità e degli aspetti psicologici siano ben rappresentati e ben presenti anche al Comitato, e qui poi lascio al Professore di integrare, tenuto conto delle competenze e delle conoscenze di chi fa parte del Comitato. Sulla prima domanda posso aggiungere che tra il numero degli esperti ci sono dei pediatrici, ci sono dei geriatrici, ci sono persone che hanno competenze specifiche. E quindi in realtà che l'attenzione nei confronti delle categorie di persone che sono portatori o di disabilità piuttosto che di disagio sono presenti, quindi il problema, ed è infatti alcune delle misure che voi avete visto adesso di apertura, nascono proprio anche come risposta a questo tipo di esigenze di persone. L'altro elemento importante di grande attenzione al Comitato, ma devo dire grande attenzione anche per le interazioni che abbiamo con tutte le autorità di governo, è quello di fare in modo che quanto prima tutte le funzioni del Servizio Sanità Nazionale possano riprendere, a dare i loro servizi proprio per continuare a garantire sempre la gamma dell'offerta dell'assistenza a tutti i bisogni di salute che sono certamente molteplici, variegati. Tenendo però presente che comunque un limite di non aggregazione lo dobbiamo avere, per cui determinati tipi di terapie che magari richiedevano l'aggregazione sono obiettivamente dei tipi di terapie che dovranno essere modificate. Poi probabilmente non sappiamo se ci saranno terapie altrettanto efficaci, però il rischio d'altra parte è che il rischio di aggregazione soprattutto in determinati contesti è alto e anche la difficoltà per esempio nel controllare quanto avviene. Per cui dovremmo trovare un bilanciamento e credo che la fase 2 vada proprio in questo senso di grande attenzione. Sulla domanda invece che lei poneva sul tema delle scuole. La prima cosa, ovviamente noi siamo un paese pilota per molte cose, stiamo affrontando prima di altri e altri hanno seguito le nostre misure in questo momento. E quindi io magari penso che sia importante anche con paesi confinanti vedere poi in effetti al di là come si tradurrà operativamente l'apertura e in che forma, perché anche questo credo sia molto importante da chiarire. Sul tema dei modelli ci sono ovviamente vari modelli, ma se lei ritiene che questo sia un aspetto importante, quello che posso impegnarmi a fare e magari in uno dei prossimi incontri che facciamo il venerdì o il giorno dovedì, siamo visto che il primo maggio, abbiamo concordato di, non so se già questo riusciremo, magari quello successivo possiamo organizzare magari un approfondimento come spesso facciamo, dando una specifica proprio su questa tematica in modo che possa essere anche oggetto di discussione. La ringrazio vivamente, però la domanda torna a essere la stessa. Se noi siamo un modello, perché la gran parte degli altri paesi europei rispetto alla scuola hanno assunto negli ultimi giorni delle decisioni che vanno in assoluta controtendenza, riaprendo alcuni paesi come la Svezia non hanno mai chiuso le scuole? La Svezia ha fatto delle scelte molto diverse rispetto alle nostre, in generale, la Svezia però ha una situazione demografica e di densità abitativa significativamente diversa rispetto alla nostra, è un paese molto giovane, è un paese con popolazione molto dispersa, con densità abitative diverse rispetto alle nostre, onestamente, e quindi in realtà è difficile fare altre cose. Guardando paesi come la Spagna, come la Francia, che ci sono paesi latini, guardiamo sono paesi che non stanno facendo politiche molto diverse dalle nostre, la stessa Francia vediamo quando apre che tipo di apertura farà, come si tradurranno in maniera molto concreta. Tenete presente che anche noi abbiamo dato delle aperture dicendo per esempio che per determinati tipi di esami dove si prevede al colloquio si possono fare di persona, quello che noi abbiamo posto come grande cautela è proprio l'aggregazione per periodi lunghi, in aule che comunque hanno dimensioni contenute e poi non dimentichiamo tutto quello che comporta l'arrivare a scuola e ritornare a casa da scuola, dove sono luoghi di aggregazione, vuol dire soprattutto nei grandi centri urbani, vuol dire prendere metropolitane, vuol dire mezzi di trasporto, perché non è soltanto il momento scolastico in sé. Se avete visto anche nel campo universitario sono state date alcune aperture rispetto al laboratorio e altre cose, si è data grande cautela in questa fase nelle grandi aggregazioni, perché l'aggregazione non è soltanto il momento dell'aula, è proprio tutto quello arrivarci, uscirne, è un'organizzazione complessa dove mantenere il distanziamento sociale è obiettivamente molto difficile e soprattutto vuol dire rimanere in un luogo confinato per ore a un numero elevato di persone e quindi questo tipo di preoccupazione è quello che poi anima questo tipo di provvedimento. Io però ribadisco, al di là dei paesi nordici che hanno una loro cultura ma hanno anche un'organizzazione della vita significativamente rispetto a diversa, faccio solo un esempio, il concetto in Italia del ruolo della famiglia allargata con i nonni e gli zii è un ruolo importante anche rispetto ai bambini, cosa che nei paesi nordici è organizzato in maniera significativamente diversa e questo ha anche un suo significato. Buonasera, Lorenzo Di Cicco del Messaggero. Solo una precisazione sulle regioni che come si diceva prima hanno numeri diversissimi sull'andamento dei contagi, vorrei capire meglio solo se quando e se potrà esserci un allentamento del lockdown diversificato per territorio proporzionato appunto ai casi effettivi di ciascuna regione, cioè se c'è un orizzonte temporale in cui questo potrà avvenire, non so se dal 18 maggio o più in là. Grazie. Allora io sono, ormai ci conosciamo da qualche, sì, da due mesi e avete, sono sempre molto prudente nel dare date, non perché non auspichi che quanto prima riusciamo ad arrivare, ma proprio perché la prudenza fa parte un po' credo del mio carattere, ma anche della necessità di avere dati solidi per poterci consentire con certezza alcune cose. Questo non vuol dire che non lavoriamo per, ma per dire lo facciamo, è bene avere dei dati molto solidi. Come ho detto prima, in questo momento l'approccio che è stato proposto dalla CTS è quello di uno scenario nazionale che poi si declina con monitoraggi regionali. Tanto più andremo verso uno scenario di monitoraggio sistematico e tempestivo a livello delle regioni, e tanto più potremo modellare meglio gli interventi. Tenendo presente però un elemento, finora noi abbiamo messo in campo un sistema dove in qualche modo il livello regionale rimane in qualche modo l'ambito di riferimento. Però sappiamo che nel momento in cui dovessimo riaprire, e anche diciamo la mobilità è fondamentalmente una mobilità collegata a riprese di attività produttive o altre attività che sono state individuate come ripartenza. Sappiamo però che nel momento in cui dovessimo fare un salto in più la mobilità interregionale diventa un altro passaggio. A quel punto il concetto di regione viene un po' meno, nel senso che nei momenti in cui ci muoviamo liberamente nel Paese questo cambia ovviamente in maniera significativa anche le dinamiche dell'epidemia. Non dimentichiamo, molti di voi ormai frequentano, hanno una conoscenza approfondita, ma se vi ricordate nei primi tempi alcuni dei focolai che si verificarono nelle regioni del sud e centro-sud Italia nascevano da trasferimenti di persone che venivano dalle regioni ad alta circolazione. Quindi il modello di trasmissione del virus è sempre quello, non è cambiato. Cambia la fase in cui ci troviamo, quindi dobbiamo stare molto attenti nel muovere. Adesso certamente rimanere nell'ambito regionale protegge rispetto a questo elemento, però se dovessimo fare altri passi è chiaro che questa è una variabile che va tenuta in considerazione e non è secondaria. Allora, modellare questi passaggi richiede un forte monitoraggio e noi ci stiamo avviando verso questo tipo di passaggio. Una volta che sia ben consolidato questo, ci possiamo concedere dei gradi di libertà progressivamente più ampi, ma dobbiamo essere molto certi che a ogni grado di libertà non corrisponda un aumento dei casi che sia tale da mandare in crisi il sistema. Probabilmente un aumento dei casi c'è, ma deve essere contenuto e tale da poter essere gestito in sicurezza dentro il sistema. Buonasera, Veronica Di Benedetto, De Posti Internazionale. Chiederei al professor Brusaferro un chiarimento sul try and learn, un ulteriore chiarimento. Nel senso ci sono delle misure che dal 4 maggio al 18 maggio verranno messe in campo. Addirittura ieri sera il premier Giuseppe Conte ha fatto una previsione di ciò che il Governo vorrebbe fare addirittura il primo giugno. Ma nel caso in cui la curva dei contagi e il termine R con zero andasse di nuovo ad aumentare, che cosa prevede il Comitato Tecnico Scientifico? Ci sono delle misure di contenimento da mettere in campo di nuovo? Si farebbero dei passi indietro? Si tornerebbe a un lockdown nazionale? Insomma, quali sono i piani se i contagi tornano di nuovo a crescere? E invece una domanda per il dottor Borrelli riguardo appunto i documenti del Comitato Tecnico Scientifico. Diceva prima che verranno resi pubblici alla fine di questa emergenza, ma questa emergenza potrebbe finire come sappiamo benissimo anche fra sei mesi o addirittura molti più mesi. Quindi se diverse volte dal Comitato Tecnico Scientifico mi è stato detto che questi documenti non sono secretati, ma sono riservati, mi chiedo se non sia troppo tardi, fra sei mesi o un anno, per capire come realmente sono andate le cose, per esempio sulla mancata chiusura zona rossa di Alzano e Nembro. Grazie mille. Dottoressa, le fai una domanda certamente interessante, diventa però difficile dare una risposta. Allora è chiaro come ci siamo detti che l'aspiccio è di poter fare un passo alla volta a riguadagnare livelli di libertà, sempre dentro le regole che ci siamo dati, per cui in realtà comunque il distanziamento sociale rimane tale e ci siamo detti più volte che fino a quando non riusciremo ad avere l'immunità di gregge fondamentalmente grazie al vaccino sarà difficile immaginare di tornare a contatti stretti sostanzialmente. Questo è un dato obiettivo e credo che ormai tutti noi ci siamo in qualche modo, non dico abituati, ma insomma ci stiamo adattando a questa prospettiva, perché il virus continua ad essere se stesso, voglio dire, agisce negli stessi modi in cui ha agito fino ad ora. Questo è il primo elemento importante. La politica dei piccoli passi, se vuole, letta in altri termini, invece che try and learn, fai un passo, misura se riesci a tenere bene la posizione, poi fai un altro passo, tieni la posizione e poi conquista un altro passo. Poi se vuole tradotta in qualche misura, questo poi se vuole in maniera ancora più immediata può essere la chiave di lettura. È chiaro che l'auspicio è di poter fare un passo dopo l'altro senza. L'auspicio è anche di monitorizzare quanto avviene, per cui le faccio un esempio molto concreto. Dicevamo venerdì scorso con chi di voi era presente quando abbiamo mostrato le mappe che avevamo oltre un centinaio di zone rosse oggi per l'Italia. È chiaro che se lei ha una comunità, una casa di riposo, piuttosto che un paese, piuttosto che un'area dove c'ha un numero di casi concentrato, molto elevato, lì deve chiuderlo subito. E questo però non vuol dire chiudere l'Italia né chiudere la regione, vuol dire ho una condizione per cui devo chiuderlo subito. Quello è un intervento puntuale, se vuole chiamarlo chirurgico per certi aspetti, lo blocca e quello ci dà garanzia che la circolazione la conteniamo al suo interno. Se lei ha, potrebbe avere anche 100 casi, per cui l'aumento assoluto del numero non è un dato di per sé, serve capire dove avviene questo numero. Se viene concentrato lì, il numero può essere importante, se la comunità magari era di 200-300 persone, 100 si infettano, può essere importante, però è contenuto. Dal punto di vista nostro, il dato più importante è capire quanto è diffuso. 100 casi invece diffusi in un territorio molto ampio, tanti piccoli focolai diventa una cosa più preoccupante, vuol dire un'area dove una circolazione è diffusa e quindi forse richiede un intervento magari sempre localizzato, dipende quanto è vasta l'area, però di contenimento in quel contesto. Lo scenario è che se viceversa succede un problema in tutto il Paese, ma ovviamente è una cosa che nessuno immagina, in questo momento non abbiamo scenari che ci possano portare in quel contesto, sarebbe uno scenario che nessuno di noi vuole immaginare, però non possiamo escludere a priori, ecco questo voglio dire. Però se con le misure puntuali che riesciamo a contenerlo, questo è un mix di misure che va modellato e quindi può andare dal fatto che una certa comunità potrebbe trovarsi chiusa per 15 giorni perché in quel momento c'è quella cosa. Riguardo a quella comunità non vuol dire che blocchiamo tutto il Paese o che si blocca tutto il Paese. Tenendo conto che comunque c'è una modulazione per cui ci sono delle regole che vengono date a livello nazionale, poi c'è una gestione soprattutto regionale e locale che va a individuare puntualmente e questo sta già avvenendo. Molte delle zone rosse sono provvedimenti che sono stati adottati dalle autorità regionali e che stanno facendo un ottimo lavoro in questo senso. Quindi da questo punto di vista io credo che lo scenario che dobbiamo fare è la nostra capacità di controllare questi focolai da un lato e dall'altro, come abbiamo detto precedentemente, di intercettare precocemente i casi positivi in modo da poter controllare la diffusione. Quindi lo scenario che immaginiamo è che sia sostenibile passo dopo passo procedere. Però dobbiamo sempre avere tutti gli scenari, anche quelli peggiori, in mente. Quindi oggi non abbiamo elementi per pensare a uno scenario, però è giusto anche essere consapevoli che è uno scenario possibile, anche se remoto, e non essere completamente impreparati rispetto a questo scenario. L'auspicio nostro, come CTS, ma credo un po' di tutti noi, di tutte le autorità, poi sostanzialmente anche di tutti i cittadini, è che ci aspettiamo dei casi, lo vediamo, ci aspettiamo che siano fondamentalmente, possano succedere, anche se auspichiamo di no, ma in comunità ristrette dove possiamo intervenire precocemente, anche con misure restrittive, con le cosiddette zone rosse, che riusciamo a intercettare sempre più casi positivi, sporadici, in modo tale, magari a livello familiare, in modo che anche quei contesti possano essere contenuti e controllati, in maniera tale che quello che crea problemi è una diffusione non controllata, ovvero se è un numero di casi diffuso, di cui non riesci a ricostruire la catena. Quello è lo scenario che preoccupa di più noi tutti, perché vuol dire che non stai controllando quello che avviene. Tanto più riesci invece ad essere puntuale nel controllare, e tanto più ti puoi permettere di mantenere lo stato dell'arte e fare un passo avanti, anche avendo dei casi. Non so se sono riuscito a darle l'idea. Per quanto riguarda gli atti del Comitato Tecnico Scientifico, confermo quello che ho detto prima, e confermo anche che non sono segretati gli atti del Comitato. Tecnicamente si tratta di informazioni non classificate e riservate, e quindi come tali, per le ragioni che ho detto prima, noi ci riserviamo, anche qualora lo stato d'emergenza dovesse essere prorogato, di fare una valutazione e rendere disponibili, più in là, gli atti di cui ovviamente riteniamo opportuno rendere disponibili. Buonasera, Matteo Quidelli dell'Ansa. Allora, Professor Brusaferro, nel DPCM nuovo c'è inserita la frase che sarà sempre consentito lo spostamento per rientrare presso la propria residenza o domicilio, che è un divieto che nelle settimane scorse voi avevate chiesto esplicitamente ci fosse proprio per evitare l'esodo di massa da nord a sud di chi tornava al proprio domicilio o alla propria residenza. Allora volevo capire qual è stata in questo caso l'indicazione che il CTS ha dato al Governo. Eravate favorevoli o contrari a questa misura? Grazie. Guardi, io penso che lei debba leggerlo anche con l'altro aspetto, che non è consentita la mobilità tra Regioni. E quindi in realtà c'è una maggior flessibilità in un ambito regionale, quindi grandi mosse, grandi movimenti. Fermo restando che rimangono comunque le mobilità per motivi di salute, per motivi di lavoro che comunque erano già presenti, tra virgolette. In questo momento credo di poterle dare come interpretazione del fatto che in un ambito regionale è aumentata in qualche modo il livello di movimento, ma rimane comunque in vigore il tema dell'altro elemento. Quindi non si può costare la mobilità interregionale neanche se c'è il domicilio o la differenza? Per amare o svolare il pubblico o no? No, quello che c'è scritto è che la mobilità interregionale viene mantenuta, il blocco viene mantenuto ad eccezione dei casi che erano già previsti sostanzialmente. Bene, allora se non ci sono altre domande concludiamo qui. Grazie, buonasera.